bene, inizia un altro livello di Kingdohart S2 allora dopo aver sconfitto Demitz non era Demitz perchè io ho fatto la pronuncia, perchè io non so leggere i nomi che si leggono in un modo e si scrivo io un altro non importa adesso devo sconfiggere mille headless il che sarà molto in cui potrò farci vera e poi sono passato al trentesimo livello, ne fatto male aia 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 vai raggio laser e vai e vai e vai e vai vai aia mi è fatto male vai vai intanto io ho pagato i colpi e vai e vai maledizio sbagliato morite afferra e vai peccatemi questo e vai risultato non sarà sbagliato la pronuncia ma non me ne frega niente e vai ho parato uno senza volerlo ma non rubete le palle e se lo sto sprecando per niente pivelli stupidi incapaci quante altre sono distrutto 632 e vai intanto sto aumentando in un sacco di livelli aia ora muori questi questi qui non finiscono più questi questi mille headless ma il tizio mi ero lasciato d'accordo qui afferra e vai a te l'ho fatta ammazziamolo a 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 prendi questo me l'è liscio e fai e ora muorite ok haha no dai non prendiamo altro tempo abbiamo preso spezzaguardia che casino per dirlo e qui da adesso dovremo fare una seconda visita di ogni di alcuni livelli ah si perchè qui malefica aiuta sorelle paperino e pippo fai subito ah si giusto saltiamo sto filmato perchè qui non so ne scopri che quanto distrugge un eclasco il keyblade e quando distrugge un eclasso ora da un cuore per il kind of heart e aiuta l'organizzazione ok avevo ragione ok avevo ragione ma facciamo questo e non ci pensiamo più perchè anche qui c'è un boss forte molto forte più forte di damage e questo boss non mi mi sfugge come si chiama saltiamo fai subito dai ah meno male mi sto preoccupando sconfiggi tutti nessuno sconfiggi tutti nessuno e qui anche apprendi e vai ho fatto l'apprendistato non è vero madre ma l'ho detto lo stesso ecco fai male amico aia fai male sei molto tosto e ora muori e ora muori c'è ah ci sei tu ma a quel paese a sì qui c'è che è aspetta però oggetti segui il film prendiamo questo e inventarlo no 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 lieto vabbè abilità sora taglio rozzetta spezza guardia finale aereo potente colpi di grazia scambola difesa ok paperino fantasy un comando limite che scatta una potente magia cometa di paperino consumato bene bene cometa volevo provarla e va che bello volevo provare questa nuova combo perchè non l'ho mai vista aia maledetto tu tua madre è una prostituta per non dire di peggio una prostituta avanzata e va e va va ecco fatto ecco fatto sto per morire e vai te l'ho te l'ho messo in quel posto Sblocca Vai Addio Non credo Non credo Non credo che sia una buona idea Se non credo che sia una buona idea Sblocca Assista